Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di inquinamento del canale Arci nella zona industriale di Catania e insieme al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi abbiamo subito effettuato un sopralluogo constatando come uno sversamento anomalo abbia provocato una moria di anguille e di altri animali acquatici. Stiamo intervenendo a livello locale e regionale. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Martina Ardizzone che insieme al consigliere Bonaccorsi ha effettuato un sopralluogo nel canale Arci della zona industriale di Catania dove si è verificato nei giorni scorsi uno sversamento di sostanze probabilmente inquinanti. I liquami di natura chimica erano bianchi e acidi, tanto da bruciare gli occhi e le narici, spiegano Ardizzone e Bonaccorsi. Sebbene la fase acuta dello sversamento sia terminata poco dopo, nel canale permangono ingenti residui e una moria di anguille. Il canale sfocia direttamente la playa di Catania e altre segnalazioni raccontano di un liquame bianco nei pressi del porto. Pare che i presenti siano riusciti a segnalare la vicenda all'ARPA e che quest'ultima sia intervenuta sul posto e raccolto campioni per le successive analisi. Stiamo presentando un'interrogazione congiunta sia in Assemblea regionale siciliana che in Consiglio comunale e chiederemo immediatamente chiarimenti all'ARPA e agli organi competenti per individuare colpevoli di questo illecito ambientale. Alla luce delle risposte che otterremo, valuteremo anche di depositare formale esposto.